Preparatevi, care amiche e amici di Lady Gossip, perché c'è una tempesta in arrivo nell'universo dello spettacolo e della letteratura. Lo abbiamo visto come ex di una delle grandi favorite del grande fratello VIP7 Antonella Fiordelisi e Gianluca Benincasa, sta per scatenare una furia letteraria con il suo nuovo romanzo, un'opera che getta una luce incandescente sulla famiglia della sua ex fiamma, Antonella Fiordelisi. Ma cosa sta succedendo davvero in questo duello verbale e letterario tra due ex innamorati? Dopo aver lanciato uno spoiler di fuoco riguardo al contenuto del suo romanzo, Gianluca Benincasa è stato travolto da una marea di critiche su tutti i principali social media. Gli ammiratori accaniti di Antonella Fiordelisi, ancora affezionati alla loro geffina preferita, non hanno esitato a far sentire la loro voce, innescando una vera e propria guerra dei commenti. Ma Gianluca Benincasa non è certo uno che si fa mettere i piedi in testa. Ha deciso di rispondere a tali accuse, difendendo il suo progetto e sfidando gli haters con parole audaci. In una recente dichiarazione sui social, ha dichiarato, avete iniziato a insultarmi senza neanche aver letto una singola pagina del mio romanzo. Ma vi prometto che quando avrete la possibilità di scoprire il lato oscuro di una coppia di psicopatici ossessivi e maniaci del controllo, sarete tutti scioccati. Presto, il mio romanzo sarà sulla bocca di tutti. Nel frattempo, Antonella Fiordelisi continua a far progredire la sua carriera, dalle creazioni di gioielli firmati da lei stessa alla collaborazione con Shane. E, mentre ha messo da parte la storia con Edoardo Donnamaria sembra che Gianluca non riesca a voltare pagina nella loro storia. Questo duello letterario tra Gianluca Benincasa e Antonella Fiordelisi sta diventando sempre più caldo, e Lady Gossip è pronta a seguirlo da vicino per tenervi aggiornati su tutti i dettagli scottanti di questa saga. Quindi non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e lasciateci i vostri commenti su questa scintillante polemica.